Una giornata di festa all'insegna della solidarietà, un momento piacevole che si ripete ogni anno. La sezione gelese dell'unità Alsieri è stata presente al raduno di Auto d'Epoca organizzato dal Veteran Motor Club, appuntamento in Piazza Umberto I. L'iniziativa è stata benedetta dal parroco e dalla Chiesa Madre, grazie all'abiso. Lo scopo è sempre lo stesso, che è quello di dare la possibilità a questi ragazzi con diverse abilità di conoscere innanzitutto il mondo delle Auto d'Epoca e nello stesso tempo, dopo averli fatti salire sulle Auto d'Epoca, dargli la possibilità di fare un giro per le vie principali della città. Io voglio ringraziare a nome mio personale di tutta l'associazione dell'Unitalsi, il presidente e tutto il consiglio degli amici del Veteran Motor Club che hanno partecipato a questa manifestazione, o comunque meglio che hanno reso possibile questa manifestazione per l'undicesimo anno. Non da meno voglio ringraziare anche tutte le forze dell'ordine, dalla polizia, ai carabinieri, ai vigili fuoco, alla polizia municipale, alla guardia di finanza, che hanno reso disponibile questa giornata. Non avevo dimenticato anche di ricordare quelli della Capitaneria di Porto. Per noi è un onore partecipare a questa giornata dedicata ai ragazzi. Sono dei ragazzi meravigliosi, con le loro difficoltà, ma noi vogliamo regalare un giorno, fargli conoscere il nostro mondo, fatto di auto, fatto di motore, di odore di benzina, eccetera. Che dire, i ragazzi so che questa giornata l'aspettano ogni anno e ce lo chiedono con insistenza di fare questa giornata dedicata a loro. I ragazzi della locale sottosezione dell'unità Alsea hanno avuto la possibilità di conoscere il mondo delle quattro ruote e sono stati accompagnati in un breve tour. È una bellissima giornata, il sole c'è, è stupenda. Adesso facciamo questo giretto in macchina, poi andiamo a pranzo. Grazie agli organizzatori, naturalmente, è tutto ok. È l'undicesimo anno di raduno che Veteran Motonglub organizza per noi diversamentabili nella sottosezione di Gela, nell'unità Sottosezione di Gela. E queste giornate si dovrebbero fare, non dico sempre, ma quasi sempre.